Parlare con una voce sexy durante l'approccio può essere utile o sembra esagerato? La pura verità è che in alcuni casi potrebbe essere utile, ma nella maggior parte dei casi che statisticamente troverai di fronte a te non lo sarà, perché di notte molto spesso la musica sarà così forte, di notte intendo in discoteca, sarà così forte che non ti permetterà fondamentalmente di usare una voce bassa, ok? Sono i bassi che sono considerati più sexy dal punto di vista musicale, quindi necessariamente questo diventa un problema se non riesci a farti sentire, ok? Quindi già la notte è una situazione che eccezion fatta per situazioni in particolare all'interno e locale non fa sì che fondamentalmente utilizzare questo tipo di voce, che per di più devi essere in grado di utilizzare, questo comporta che devi essere in grado di fare una respirazione diaframmatica